Le cicatrici che residuano dopo l'acne possono essere di vario tipo. Ci sono cicatrici molto superficiali e cicatrici invece un po' più profonde. Le cicatrici più superficiali possono essere eliminate con dei buoni risultati grazie al laser o se non sono molto profonde anche con alcuni peeling superficiali. Tuttavia il laser è lo strumento che dà maggiore sicurezza di buoni risultati. Ma se le cicatrici sono profonde non è possibile riuscire a eliminarle completamente ma a migliorarle. E tanto più sono profonde tanto i risultati buoni diciamo che si allontanano dalle aspettative. E' molto importante quindi una accurata visita dal proprio dermatologo per essere sicuri dei risultati che si possono ottenere. Ed è molto importante anche capire che in determinati casi non sempre un solo trattamento è sufficiente ma se la cicatrice ha una certa profondità possono essere necessarie due o tre sedute in questo caso con il laser per riuscire ad ottenere il risultato che si è prefisso.